Benvenuti alla seconda parte della lezione del corso di programmazione d'oggetti sui thread, in cui parleremo della sincronizzazione tra i thread, ovvero del modo in cui è possibile andare a garantire che più thread possano collaborare tra di loro senza interferire. Immaginiamo un tipico scenario in cui abbiamo, ad esempio, un unico conto a cui vogliono accedere due diversi utenti che hanno magari due carte Bancomat appoggiate sullo stesso conto. In pratica, se i due cercano di fare un prelievo contemporaneamente, vanno contemporaneamente a operare sugli stessi dati. Quindi, se noi abbiamo i nostri two minions che accedono alla classe account, di più allo stesso oggetto della classe account, entrambi cercano o possono cercare di accedere allo stesso metodo withdraw e quindi fare la stessa operazione di prelievo. Normalmente, se voglio fare un prelievo sicuro, devo ovviamente andare a verificare prima che il mio saldo sia maggiore della somma che voglio prelevare e poi procedere al prelievo. Questo potrebbe sembrare tranquillo, sicuro e sufficiente, ma se abbiamo più thread che possono essere eseguiti, questo non è sufficiente. Perché? Perché sostanzialmente i due passi che abbiamo visto prima sono distinti e quindi è possibile che, fatto il passo 1, un altro utente faccia lo stesso passo prima che effettivamente il primo abbia proceduto al prelievo vero e proprio. Quindi ci troviamo ad avere e operare in condizioni non ben definite o in cui le condizioni non sono verificate. Vediamo un esempio. Allora, qui abbiamo il codice di metodo save withdrawal che, dato un importo, verifica che il saldo sia maggiore dell'importo e poi effettua il prelievo restituendo true. Se invece il saldo non è sufficiente, restituisce false. Immaginiamo a questo punto che i nostri due utenti, Kevin e Stuart, cerchino di fare un prelievo contemporaneamente dallo stesso conto. Il nostro conto è un oggetto che ha un saldo pari a 10 e i nostri due utenti hanno, tutte e due, in mente di prelevare esattamente lo stesso importo, quindi 10. Quindi sostanzialmente prelevare tutto quanto è disponibile sul conto in quel momento. Il primo a iniziare è Stuart, che verifica che il saldo sia maggiore o uguale dell'importo, cosa che è verificata. A questo punto, prima che Stuart faccia qualunque cosa, Kevin va anche lui a verificare la stessa condizione. In quell'istante, la condizione di saldo maggiore o uguale dell'importo è verificata per entrambi. A questo punto, se Stuart procede, ecco che va a fare il prelievo e a mettere il saldo del conto uguale a 0. A questo punto, anche Kevin può procedere, perché nel momento in cui un attimo fa ha verificato, il saldo era sufficiente. E quindi, a questo punto, anche lui fa un prelievo, andando a portare il saldo del nostro conto in negativo. Quello che abbiamo visto è quella che si chiama una raise condition. Una raise condition succede quando abbiamo più thread che vanno ad accedere alle stesse risorse, normalmente attributi o dati dello stesso oggetto, e uno dei due arriva prima dell'altro nel completare un'operazione. E quindi il risultato sono dati corrotti, per cui entrambi erano convinti di poter fare il prelievo, il risultato è andare a passare il saldo del conto in negativo. Come faccio a evitare la raise condition? L'idea è che devo andare a considerare i due passaggi, quindi la verifica del saldo e il prelievo, come un'entità unica, quindi come una unica operazione, che di solito viene chiamata un'operazione atomica. Un'operazione atomica normalmente è indivisibile. Quindi, nel momento in cui un thread fa un controllo sul saldo, deve poter fare successivamente anche il prelievo, senza che nessun altro thread possa intervenire nel frattempo operando sul conto. Come facciamo a implementare le operazioni atomiche? Perché sostanzialmente le variabili devono essere private, ma questa diciamo che è una raccomandazione generale, tanto più in questo caso, e in più devo andare a fare in modo che l'accesso a questo metodo di prelievo sia sincronizzato. Come faccio? Lo faccio con una parola chiave che in Java si chiama synchronized e che permette di definire che un certo blocco di codice o un metodo può essere eseguito da un solo thread per volta. Per cui io posso andare a definire un metodo come sincronizzato, oppure posso andare, altra sintassi, a definire un blocco di codice sincronizzato, ovviamente facendo riferimento a un particolare oggetto. Perché devo fare riferimento a un particolare oggetto? perché sostanzialmente la sincronizzazione funziona in questo modo. Ogni oggetto in Java ha al suo interno quello che si chiama un monitor, che è un meccanismo di sincronizzazione. Prima che un thread possa entrare all'interno di un metodo o di un blocco di codice sincronizzato, cerca di acquisire quello che si chiama un lock, quindi un diritto esclusivo, su il monitor dell'oggetto. Una volta che ha acquisito questo lock, si dice che il thread possiede il lock per quel monitor. È possibile che un solo thread per volta possa possedere il lock di un certo monitor. Se quando un thread possiede un lock, un altro thread cerca di acquisirlo, sostanzialmente viene bloccato, finché il lock non viene rilasciato. Questo sostanzialmente garantisce che se un thread cerca di acquisire il lock per il monitor prima di eseguire un blocco di codice o un metodo, tutti gli altri thread sostanzialmente sono tagliati fuori finché quel thread, lasciando il blocco di codice o terminando il metodo, rilascia il monitor e quindi permette l'accesso ad altri thread. Quindi normalmente che cosa faccio? Faccio un synchronized prima della dichiarazione del metodo e quindi automaticamente quando il thread entrerà in questo metodo cercherà di acquisire il lock sul monitor e poi lo eseguirà. Qual è il monitor? È sostanzialmente dell'oggetto su cui viene invocato questo metodo. Per cui sostanzialmente questa dichiarazione equivale a mettere un synchronized this all'inizio del metodo che racchiuda tutto il corpo del metodo. Ovviamente io posso andare a fare dei metodi sincronizzati anche statici. In questo caso la sincronizzazione avviene sull'oggetto classe che corrisponde al metodo che sto cercando di sincronizzare. Quando è necessario sincronizzare? Beh sostanzialmente quando ho più variabili che possono, più thread che possono accedere alla stessa variabile locale e questo accesso può andare in conflitto. Sostanzialmente se tutti leggono direi che non c'è problema. Se invece ci sono alcuni che leggono e altri che scrivono questo può andare a generare dei conflitti per cui devo andare a pensare alla sincronizzazione. Vediamo un caso molto semplice. La classe name list sostanzialmente contiene una lista di nomi e due metodi uno per aggiungere dei nomi e l'altro per andare a prendere il primo nome. Per prendere il primo nome sostanzialmente si verifica che effettivamente siano presenti dei nomi e poi si chiama il metodo remove. Se non ci sono nomi viene restituito empty. Cosa succede se due thread cercano di andare contemporaneamente a fare un remove di un nome da una lista che ne contiene uno solo? Quello che succede andando ad avere una name list aggiungendo un nome e poi avendo due oggetti che, due scusate metodi callable che vengono aggiunti a due thread due executor service di questo tipo il risultato è che dati questi due future questi due future potranno contenere alla fine allora hello più empty che è quello che io mi aspetterei quindi uno dei due thread riesce a prelevare il nome l'altro non riesce a prelevare nulla però talvolta ho due volte due thread che riescono entrambi a prelevare il primo nome oppure un thread che prende hello e l'altro che prende null quindi non si sa bene da dove arrivi oppure ho un index out of bound exception per cui un thread riesce a prelevare l'altro cerca di fare un remove ma nel frattempo la situazione è corretta e trova che non ci sono più altri elementi oppure ho un hello più null pointer exception ovviamente l'index out of bound è diciamo quello più ragionevole nel senso che se uno ha controllato cerca di fare un remove nel frattempo l'altro gliel'ha tolto è corretto che ci sia un index out of bound exception il doppio hello hello più null oppure il null pointer exception invece sono problemi dovuti a delle condizioni di race condition direttamente all'interno della linked list come posso fare? beh una possibile soluzione è quella di andare a utilizzare questo metodo synchronize list che si trova in collection che sostanzialmente mi crea un wrapper attorno alla lista che mi dà un accesso sincronizzato al contenuto della lista attenzione che anche con un metodo sincronizzato io ho ancora una race condition qui per cui non è possibile che due thread entrino contemporaneamente dentro remove come non è possibile che due thread entrino contemporaneamente dentro size però è possibile che un thread esegua il controllo un altro lo faccia e poi due thread cerchino in ordini diversi di entrare dentro remove per cui i metodi definiti all'interno dell'interfaccia collection tipo synchronized list synchronized collection synchronized map eccetera vanno a creare quelli che sono dei contenitori thread safe ovvero dei contenitori in cui tutti i metodi sono sincronizzati quindi è impossibile che i due thread cerchino di fare un'operazione all'interno del nostro contenitore contemporaneamente tuttavia non è detto che questo sia sufficiente infatti se io vado a utilizzare una versione la versione che utilizza la lista sincronizzata con il codice di prima quello che ottengo sarà ovviamente quello che mi aspetterei ovvero uno di due future contiene low l'altro contiene empty ma alcune volte proprio perché esiste una race condition dentro il metodo remove first della classe avrò un index out of bound exception quello che devo fare è andare a considerare proprio l'operazione del metodo remove come un'operazione atomica e quindi andare a sincronizzare il metodo remove first indipendentemente dal fatto che la mia lista di nomi sia o meno sincronizzata ma io devo sicuramente andare a sincronizzare questo metodo move first in modo che tutto questo sia considerato un'operazione atomica e quindi non sia impossibile che due thread vadano a fare in maniera intercalata la verifica della dimensione e poi l'operazione di remove quindi in questo caso finalmente usando la versione con il metodo sincronizzato tutte le volte che andrò a eseguire questo codice avrò ovviamente uno future che mi restituisce low e l'altro che mi restituisce empty attenzione che l'uso dei metodi sincronizzati può portare a quelle che sono delle condizioni di deadlock ovvero delle condizioni in cui due thread cercano di acquisire delle risorse e uno è bloccato nell'attesa che l'altro rilascia una risorsa e viceversa e quindi nessuno dei due riesce a liberarsi il risultato è che entrambi i thread sono bloccati e non riescono ad acquisire le risorse sostanzialmente i monitor per entrare all'interno di un'area sincronizzata un esempio molto semplice è quello che vediamo qua immaginiamo di avere un metodo read che acquisisce prima la risorsa a poi la risorsa b e dopodiché va a restituire la somma del valore delle due risorse è un metodo write che acquisisce prima la risorsa b e poi la risorsa a e va a scrivere i valori delle due risorse ora ovviamente due metodi scritti così sono palesemente pericolosi il punto è che è possibile che l'acquisizione delle risorse a e b venga fatta non in maniera così semplice ma magari ci sono chiamate tra l'acquisizione di una risorsa e l'altra e per cui io non li vedo scritti uno sopra l'altro in questo modo il risultato è che posso avere dei deadlock e quindi è opportuno fare attenzione quando ci sono delle risorse sincronizzate a evitare questo tipo di interazioni i metodi che abbiamo visto parlando di sincronizzazione quindi sostanzialmente la parola chiave synchronized viene utilizzata per andare a evitare problemi di race condition e quindi di risultati impredicibili un altro approccio che possiamo utilizzare eventualmente in combinazione è quello di cercare di coordinare diversi thread in modo che questi possano accedere in maniera ordinata a delle risorse eventualmente condivise per fare questo possiamo utilizzare tre metodi fondamentali che sono presenti nella classe object che sono wait notify notify all che cosa fanno questi metodi allora il primo wait permette a un thread di mettersi in attesa finché un altro thread lo risveglia e quindi gli permette di proseguire il metodo notify è quello che invece viene chiamato per andare a svegliare i thread che sono in attesa su quell'oggetto e poi c'è la variante notify all che invece di risvegliare un solo thread per volta li risveglia tutti quindi risveglia tutti i thread che erano in attesa nella lista associata a un certo oggetto quindi cosa succede che un thread che già possiede il lock del monitor di un certo oggetto chiama su quell'oggetto il metodo wait il risultato è che questo thread viene messo in attesa e quel thread rilascia il lock sul monitor quindi altri thread possono andare a operare quando viene risvegliato questo thread cerca di acquisire di nuovo il lock sul monitor perché ovviamente si ritrovava dentro una zona sincronizzata quindi deve poter per poter proseguire riacquisire il lock sul monitor e proseguire quindi la sua attività se non riesce a acquisire il lock sul monitor sostanzialmente resta bloccato finché qualcuno rilascia il lock e quindi il thread può finalmente acquisirlo i due metodi notify sostanzialmente cosa fanno vanno a segnalare che i thread in attesa possono essere risvegliati uno per volta o tutti e quindi permettono di andare a risvegliare dei thread dal pool che è in attesa su un certo oggetto attenzione che il metodo notify non permette di scegliere quale thread deve essere svegliato quindi sostanzialmente questa scelta come per la schedulazione dei thread non è sotto il nostro controllo quindi vediamo come possiamo utilizzare queste primitive per andare a fare una sincronizzazione tra diversi thread in particolare immaginiamo che ci sia un programma che fa una computazione eventualmente molto lunga e alla fine della quale deve essere possibile andare a svolgere qualche operazione però non prima che sia terminata la fase di elaborazione quindi immaginiamo che esista questo worker thread che in questo caso fa semplicemente la somma di una certa quantità di numeri e una volta terminato fa un notify il notify scritto così vuol dire che fa un notify allo stesso oggetto quindi a se stesso quindi fa un notify ai thread che sono in attesa sull'oggetto che sta eseguendo questo metodo quindi il programma principale che cosa fa andrà a creare un oggetto di tipo worker acquisirà il lock sul suo monitor e chiamerà il metodo start il metodo start ovviamente facendo avviare il thread dal metodo run sarà bloccato perché visto che il thread principale possiede il lock sull'oggetto l'altro thread che cerca di eseguire il metodo run resterà bloccato in attesa di poter entrare in questo metodo sincronizzato a questo punto cosa viene fatto il thread principale si mette in attesa che B quindi l'oggetto worker termini e quindi chiama il metodo wait la chiamata del metodo wait mette sostanzialmente il thread principale in attesa e rilascia il lock sul monitor dell'oggetto B a questo punto il nuovo thread che era stato creato può finalmente entrare in questa zona sincronizzata perché nessun altro thread possiede più il lock sul monitor e quindi fa la sua operazione terminata l'operazione andrà a chiamare il metodo notify il metodo notify cosa fa sveglia questo thread che era bloccato sulla wait termina il metodo e quindi sostanzialmente rilascia il lock sul monitor di questo oggetto e a questo punto il thread principale può andare avanti e stampare il risultato della computazione svolta da questo thread iniziale ovviamente io posso anche andare a utilizzare dei callable quindi se immaginiamo di avere un task che fa un'operazione di questo tipo invece di utilizzare i metodi wait e notify quello che posso fare è avere un executor service con una callable a usare un future e a questo punto fare un'operazione di get il get che cosa fa sostanzialmente si blocca quindi al suo interno il metodo get non farà altro che andare a utilizzare le primitive che abbiamo visto prima quindi wait e poi notify la parte di chi ha finito l'esecuzione per poter andare a effettivamente svegliare chi era in attesa quindi in generale io potrei utilizzare i metodi di base wait e notify oppure se semplicemente voglio restare in attesa del risultato posso utilizzare un oggetto future generato da un thread callable senza dovermi preoccupare di chiamare wait e notify quindi decisamente in maniera più semplice quindi questo è uno dei motivi per cui sono stati definiti l'exercito service e il future in modo da non dover andare a manipolare direttamente queste primitive che possono essere potenzialmente complicate e delicate per capire la complessità di un uso diretto delle primitive di sincronizzazione vediamo questo caso particolare quindi andiamo a considerare questa classe FIFO che utilizza un array list per implementare una first in first out abbiamo un array list e abbiamo i due metodi insert ed extract che permettono di inserire ed estrarre gli elementi in usando la la policy FIFO first in first out quindi quando entrambi i metodi extract e insert sono sincronizzati in modo che le operazioni di add non vengano svolte in maniera poco corretta ovviamente quando io chiamo il metodo extract è possibile che non ci sia nulla quindi se io voglio avere una comportamenti di tipo bloccante invece di restituire una eccezione quello che posso fare è quando la dimensione è uguale a zero mi metto in weight quindi chi chiama il metodo extract viene bloccato finché qualcuno qualche altro thread andrà a chiamare un insert quando viene chiamato l'insert cosa succede oltre ad aggiungere l'elemento si chiamano notify e quindi viene risvegliato uno dei thread che era bloccato qua su questa notify a questo punto cosa succede il thread svegliato andrà a prendere l'oggetto zero farà una remove e restituirà il valore appena recuperato tutto questo concettualmente è relativamente semplice tuttavia dobbiamo tenere in considerazione che esiste un fenomeno chiamato di wake up spontaneo quindi è possibile che senza che nessuno chiami i metodi notify oppure notify all per qualche motivo lo scheduler della virtual machine chiami notify e quindi svegli un thread anche se nessuno ha esplicitamente chiamato notify per cui quando ci si sveglia la notify è possibile che nessuno ci abbia svegliato esplicitamente quindi non ci sia una condizione che io programmatore ho considerato valida per poter svegliare un altro thread per cui la condizione che mi aveva portato a mettermi in wait deve essere di nuovo verificata per evitare di andare a operare in condizioni che non sono quelle che io programmatore ho previsto per cui invece di utilizzare un if qui quello che è opportuno fare è andare a utilizzare un while in modo che quando il thread viene svegliato per una condizione di spontaneo wake up oppure perché effettivamente qualcun altro ha aggiunto un elemento e quindi poi ha chiamato notify io ricontrollo la situazione quindi vado a verificare che effettivamente ci sia almeno un elemento se c'è almeno un elemento vado avanti altrimenti se non c'è nessun elemento quello che faccio è rimettermi di nuovo in attesa quindi capite che la gestione diretta di wait e notify delle zone sincronizzate può essere relativamente complicata e richiede molta molta attenzione per cui in generale se io voglio utilizzare wait and notify semplicemente per restare in attesa del completamento di un task potenzialmente lungo sicuramente il metodo raccomandato è quello di utilizzare un executor service e un callable che mi restituisce un future l'uso delle primitive wait and notify può anche portarmi a quello che si chiama un starvation ovvero una situazione in cui un thread cerca di fare qualcosa ma non riesce mai a farlo ricordiamoci come funziona la wait allora quando ho la wait sostanzialmente un thread rilascia il monitor e il lock sul monitor e si mette su una lista di attesa ovviamente prima di poter fare qualcosa deve riacquisire il lock sul monitor ok e quindi deve aspettare che eventualmente altri thread che sono lì che hanno acquisito il lock lo rilascino e quindi tocchi a questo thread quindi mi ritrovo come thread in un insieme di attesa normalmente una coda e quindi quando arriva una notifica io sono di nuovo pronto ad essere eseguito ma non è detto che possa essere eseguito subito perché magari ci sono altri thread in esecuzione oppure non riesco ad accedere subito al lock del mio monitor e quindi è possibile che nel momento in cui finalmente come thread ho di nuovo la possibilità di accedere la condizione che mi aveva portato a essere svegliato e quindi a poter fare qualcosa ad esempio la presenza dell'elemento nella mia FIFO in pratica non sia più vera e quindi cosa succede? Vado di nuovo in attesa ed è possibile che nel momento in cui sono svegliato non riesca ad accedere subito alle risorse e quindi nel frattempo quelle risorse che io avrei potuto consumare scompaiono di nuovo e quindi un thread è possibile che continui a rimettersi in attesa senza poter fare nulla questa è quella che si chiama normalmente una condizione di starvation e che è possibile se i miei thread non sono combinati correttamente oppure semplicemente se ho molti thread che cercano di acquisire e di consumare risorse prodotte da altri thread e quindi è molto difficile cercare di evitare queste condizioni in modo da garantire che ogni thread possa effettivamente svolgere il suo ruolo oltre alle primitive di Weed Notify in Java è possibile andare a utilizzare delle altre primitive di sincronizzazione che sono sostanzialmente il semaforo il countdown latch e il cyclic barrier che permettono meccanismi di sincronizzazione un po' più sofisticati però questi meccanismi di sincronizzazione non sono oggetto di questo corso sappiate che esistono e potete utilizzarli in maniera un po' più complicata ma l'idea è che se avete bisogno di meccanismi di sincronizzazione più complicati probabilmente il vostro programma è molto più complicato quindi dovete studiare molto meglio quelli che sono i meccanismi di sincronizzazione tra i vostri thread in modo da garantire che tutto funzioni correttamente